Ciao ragazzi, allora bentornati, come molti voi sapranno mi sono perso circa 15 anni di notifiche di youtube quindi l'unici commenti che io vedevo e richieste di video erano quelli che mi avete fatto nel sito ho perso tutta la mia vita di youtube perché non avevo attivato le notifiche bene, l'ho visto in questi giorni, tant'è che molti di voi hanno ricevuto commenti e risposte dopo anni tant'è che un ragazzo inglese mi ha scritto, ci ha messo poco a rispondermi, solo 7 anni e purtroppo è andata così, l'ho trovata tutti ora e arrivo subito al dunque una cinquantina o più di notifiche, soprattutto sotto a video di Giacolo erano relativi a questo basso in particolare ho detto, sì, di richieste insomma, una cinquantina di richieste erano relative a questo basso, domande, amici, colleghi bassisti si chiedevano ma hai un basso e ci cambi il manico in continuazione perché magari non l'hanno visto questo in alcuni video hai due bassi, hai tre manici, com'è questa configurazione, perché? allora, vado a rispondere a tutto, ci provo allora, il primo motivo è perché io ho sempre suonato, da quando ho iniziato a suonare circa, oltre 20 anni fa, manici precisio quindi come vedete io ho tre manici precisio uno è questo che ho montato qui in acero uno è questo del mio precisio black l'altro è questo, faccio un attimo una manovra ecco qui che è questo mentre sull'altro basso che ho molti di voi hanno seguito l'anno scorso con l'officina del basso elettrico che mi sono fatto da solo ci ho montato appunto il manico originale di questo basso e questo qui Fender Jets perché? allora, primo perché avendo rifatto tutto il corpo mi avvanzava questo manico e ho pensato bene di metterlo lì per avere un basso in più secondo come vi dicevo sono sempre stato abituato a suonare questi tipi di manici cosa cambia? cambia che da un Fender Jets a un Fender preciso ci sono diversi millimetri di larghezza, di differenza ovviamente il preciso è più largo più grosso più ciccione e vuoi per conformità della mia mano vuoi per abitudine vuoi per tante cose quando poi mi sono trovato a suonare parliamo i bassi tipo i banitz per l'amor di Dio con tutto il rispetto ma proprio non mi ci trovo come quando passo a suonare la chitarra mi ci vuole sei ore per capire che sto suonando una chitarra e quindi per entrare proprio nel mood nella chitarra poi ho le mani un po' grosse non tanto ma un po' grosse quindi tutto questo insieme di cose fa sì che preferisco a livello di manico il precision al Jets per tanti aspetti per altri meno ovvero a volte mi manca quella rotondità di suono tipica del palissando soprattutto perché il manico il Jets come avete visto è in palissando a volte è comodo avere un manichino un po' più stretto ma la maggior parte delle volte mi trovo bene con questo la brillantezza del suono mi piace quindi lascia un po' più brillante e soprattutto il motivo principale è che come molti di voi mai avremmo capito spero suono tanto il basso fretless che è lui quando io studio quindi soprattutto nei periodi come ora invernali dove faccio meno live più studio più didattica eccetera quindi ho più il basso sotto mano non per suonare davanti al pubblico ma per altri motivi se io studio su questo manico qui quindi ho un modo di suonare cioè tendo sempre ad andare molto vicino cioè a premere il tasto molto vicino alla barretta quindi è un'abitudine che ho preso quindi la mia mano si allarga di più che rispetto a un manico tipo stile jet questo è il motivo quindi quando faccio esercizi tipo le quarte in orizzontale un esempio accade devo allargare di più che sul manico jet oppure quando suono nelle prime posizioni nella parte nel range basso devo faticare di più tra virgolette ma fatica che io non sento più per abitudine quando poi passo al fretless dove invece siamo obbligati a suonare sopra la barretta virtuale per essere intonati ho più facilità la mia mano è come se fosse più allenata quindi trovo anche meglio le posizioni senza senza guardare anche se il basso fretless non lo suono per un periodo quando poi lo riprendo ci metto poco a riprendere anche perché uso solo quello quindi non ho da sentire cambiamenti rispetto ad altri manici senza tasti quindi è un è una serie di motivi che sono ben strutturati quindi non è che faccio le cose a caso altre domande mi sono state fatte a parte il perché è come da che pezzi è costituito questo basso e vi rispondo subito il manico sono sicuro che lo trovate in un'occasione pazzesca 15 anni fa forse mi ricordo pagare meno di 300 euro solo il manico intendo però con chiavette e tutto tutto al suo posto è anche molto ben tenuto sono io che poi l'ho usato tanto e è del 78 77 78 ora qualcuno di voi magari col seriale se si vede se lo metto a fuoco come si fa eccolo questo è il seriale del manico cioè ero risalito qualche anno fa mi sembra un 78 americano perfetto quindi non so se ho avuto fortuna io se in quegli anni facevano dei manici veramente buoni mi piace l'acero mi piace tutto di questo manico poi l'altro altra parte fondamentale basso è il body non so la storia di questo body cioè so solo che l'ho trovato un'altra botta un'elepok della mia vita botta di fortuna a pochissimo prezzo durante un viaggio insomma però con la controparte che non avevo idea di che hanno forse insomma la sua storia so solo che in diciamo in stile anni 60 perché si misura la la distanza dal ponte e rispetto ad esempio a lui al fretless che è invece anni configurazione anche come veniva a termine anni 70 perché il pick up al ponte è leggermente più vicino al ponte stesso quindi lo vedete rispetto al potenziometro del tono questo è un pochino più spostato verso il manico quindi so solo che o è dell'anni 60 o è stato rifatto probabilmente con quell'idea lì quindi io credo sia un basso un un corpo dei primi anni 2000 anni 90 non lo so fatto sta che a me sinceramente me ne interessa anche il giusto primo perché mi piace come suona mi piace il peso mi piace tutto anche di lui quindi non lo venderò mai sicché che valga 10 euro o 10 mila non non mi cambia niente ecco che sia americano che sia giapponese russo o senegalese a me piace quindi non non cambierei mai con nient'altro quindi va benissimo così poi ecco questo era una cosa fondamentale i pick up sono il cast shop 60 che montano esattamente anche su fretless tutto il discorso elettronica condensatori potenziometri e altro potete rivedervi i video dell'officina il basso elettrico metto la playlist a questo link dove parlavo di tutto il ponte è un vintage della fender mi ci trovo molto bene perché è utile si può diciamo in qualche modo cambiare l'intercorda quindi lo spazio tra le corde grazie a queste scanalature ci sono sulle sellette e poi le corde le corde su tutti i bassi che vedete perfino lui che purtroppo invece avrebbe bisogno delle flat quindi delle corde lisce ma non me ci trovo quindi su tutti i bassi ne ho ora 2, 3, 4, 5 è un contrabbasso ma lì no su tutti i bassi che ho le rotosound swing 66 misura 105-45 ruvide non si sbaglia mi trovo bene ne ho provato un milione nel passato ora costano anche giusto quindi con 22-23 euro a muta si cambiano durano tanto hanno un suono un po' brillante all'inizio ma dopo un paio di giorni prendano il sound caratteristico di queste corde magari alcuni di voi faranno cacare a me piacciono mi ci trovo stra bene da anni tant'è che le cambio anche poche volte perché mi piace proprio il suono anche quando è un po' diciamo agli sgoccioli no quando la corda comincia soprattutto d'estate quando c'è tanti cambi di 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 clima di umido eccetera le corde durano meno ma mi piacciono uguale poi cos'altro dire mi sembra aver detto tutto questa placchettina qui mi è stato chiesto anche di questo questa placchettina qui è una cosa che potrei anche togliere perché la massa sotto al ponte ce l'ho però la dava non si ama questi pick up quando li cambia ce l'ha misi era la placchettina che mettevano all'inizio questo è quello che so io correggetemi se sbaglio per eliminare ronzivali vari nei primi nei primi anni dei fender jets quindi single coil e praticamente era collegata al circuito elettrico e messa sotto appoggiandola sotto appunto quindi alla lamierina in metallo e faceva la funzione appunto del cavo di massa e messa a tempo questo è tutto ragazzi io spero non ci siano altre perplessità nel caso sono sempre qui ora non rispondo dopo 18 anni ma dopo poco anche su youtube quindi avanti con le domande avanti con le critiche l'unica critica che ho da obiettare quando mi viene detto che anche questa configurazione ho copiato giaco perché in un video lui aveva montato il moden electric base e giaco l'ava fatto per altri motivi di montare un preciso un manico su un jazz tra l'altro né il manico né il body erano suoi era tutto un'altra situazione non non vedo perché dovrei aver copiato lui in questo casomai l'ho copiato sui bassi sull'estetica ecco non vado a vedere che manico avessi in un determinato video ci mancherebbe invece le critiche costruttive sempre e comunque le apprezzo e per oggi vi saluto ci vediamo al prossimo video un'altra situazione